Vuoi un consiglio giusto per il tuo tempo libero? Vieni a Monte Cavallo! Puoi raggiungerlo in pochi minuti dal centro storico di Vipiteno. Monte Cavallo è la stazione sciistica per tutti, con piste sempre innevate, la pista da slittino più lunga dell'Alto Abice, baite e ristoranti, manifestazioni e tanto divertimento da non perdere. Monte Cavallo è partner dell'area sciistica Hortler Ski Arena. Per maggiori informazioni su abbonamenti, manifestazioni, apre schie sulle baite, visita il sito www.montecavallo.com Wohin in deiner Freizeit? Na, zum Rosskopf! In wenigen Minuten erreichen Sie von der Einkaufsstadt Stärzing den Rosskopf. Mit 10 km Rodelband laden wir Sie zur längsten Rodelpartie Südtirol sein. Der Rosskopf, Partner der Hortler Ski Arena. Mehr Infos über Abos, Veranstaltungen und Hüttenzauber unter rosskopf.com She was covered in leather and gold 21 years old I lost her in the cold It's unfair she's out there Somewhere, somewhere Somewhere in Brooklyn She's somewhere 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 in Brooklyn Little Miss perfect sitting at the train stop Red Nike High Tops Listening to hip hop While we were waiting Started conversating Before I got a name Along came a train Yeah, Alfred Mazzone Teammanager von den CF Südtirol Heier Das erste Mal da auf dem Rosskopf? Ja Und wie kommt auf ihr? Der Tag ist toll Die Mädels sind alle mehr oder weniger da Bist du eigentlich ein Skifahrer? Ein Roadler? Was ist dein Sport im Winter? Eigentlich überhaupt kein Wintersport Ein bisschen schnell gehen, aber ganz ganz wenig Allora, Giordana Torresani Una prima volta Oggi fuori dal campo di calcio Una domenica Dedicata alla neve Come ti trovi qui a Montecavallo? Bene, bene È una bellissima giornata Quindi Bene, insomma Ecco, quanto è importante Anche per voi ragazze Stare un attimino al di fuori Di quella che è Il Prettamente l'ambiente calcistico E avere diciamo Delle giornate così Dove appunto Avete modo di stare insieme E pensare a altre cose Ma devo dire che Almeno questa squadra È veramente Veramente unita E Si trova bene anche In giornate come queste Che non sono giornate di calcio Ma giornate di svago Secondo me è importante Perché Diciamo che Favorisce insomma Il gruppo E l'unità Gli intenti Che poi si vede anche in campo Na wohl Mi ha un volle guto clima Mi gefällt es volle gut A so mit die Gitschen Und so C'è basta Ecco È stato importanti Per ci sia Tornarti Garino A Ci sono anche una buona, che si spiega in 3-2? Ci sono mai molto più che hanno fatto, perché abbiamo fatto un'ottima prima. Ci sono prima in cui ho fatto un'ottima, ci sono molto scicurso e mi piace molto. Come dobbiamo fare in una Saison? 15 volte. Inoltre hai più fissi di fare in un'ottima settimana? Sì. Cosa faccio? Come ti piacere? Per esempio. Abbiamo molto perduto, ma abbiamo sempre un po' di più. E ora dovrò più vincere. Cosa è per te più importante? O che vuole per te? O che vuole per te? Per esempio, quando sei messo con la CITCHEN, mi piacerebbe immaginare? Un secondo. Un secondo. Quattro? Conoscere e vedere come bene ci sono. Non è tutto importante. E questo giorno? E cosa stai tu? Sono una nuova. Con cui sei tu? Con te le mie? Si. Per i bambini è possibile. Per i bambini è possibile. Per i bambini è possibile. Se sei tu e la tua chiesa. Siamo anche con gli altri. Quanto è importante per te, per cui sei un po' più importante per il futbolismo? Si, si può rilassare, si può fare un po' altra cosa. Si può fare un po' altra parte. Si può fare un po' altra parte. Quanto è importante una giornata come oggi? Siamo qui a Montecavallo. Quanto è importante questa giornata anche per le ragazze e per tutte le ragazze della squadra? È molto importante per il spirito della squadra. Abbiamo diverse ragazze dall'Unda 14 all'Unda 19 fino alla prima squadra che durante la settimana si vedono poco perché gli allenamenti sono un po' diversi. Gli orari, le partite anche. Ogni tanto si incrociano. Giochiamo tutti lo stesso campo in casa. Però fuori da questo trovarsi una giornata così per conoscersi meglio per scambiare qualche battuto o qualcosa fuori dal calcio è molto importante per me. Ecco Alfred, tu stai vedendo crescere questa squadra. Tu hai soprattutto dato un occhio molto molto grande all'Unda 14. Stai vedendo crescere queste nuove ragazze che saranno poi il futuro del CFS Itero. Quanto è importante un vivaio come l'Unda 14? Importante. Un vivaio come l'Unda 14 è praticamente la radice per una prima squadra. Un'ultima cosa, oggi le ragazze sono qui a sciare. Chi fa snowboard, chi fa questo. Tu che cos'è che fa di bello? Niente, cammino con le mie gambe basta. Grazie. Per te che sei da Sicilia, che tipo di sport invernale preferisci? Vado con la slitta e scendo. È la mia prima volta, sarà una bella cosa, però sarò anche attenta perché ho anche un po' paura. Ecco, meno paura hai quando devi naturalmente scendere lungo la fascia destra o sinistra andando verso l'area avversaria. Come sarà contro il Valpo Pedemonte secondo te? Beh, sarà una bella sfida e sicuramente dobbiamo essere, dobbiamo stare concentrate per 90 minuti e portare a casa la partita di risultato. Ultima domanda per te che appunto vieni dalla calda Sicilia qui nel freddo alto adice, soprattutto tu sei a Vipiteno. Come ti trovi te in mezzo a questa neve, in mezzo a questo bianco, in mezzo a questo freddo? Beh, un po' lo sto soffrendo, però da un bel po' già mi sono tra virgolette abituata al freddo e alla neve e hai meno nove di Vipiteno. Was è il tuo sport, il tuo sport, il tuo sport am liebeste? Skiforme. Sei il primo in Roscoff? Non, 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 non. Ecco. Come passi a te l'anno? Hai hai un po' tore giosti? Hai hai un po' tore giosti? Wie sufridenti sei tu con te l'eisstu in la prossima Saison? Ja, sufridenti kann man schon sagen, ma merda logisch auch. Wohl, geht schon. Also, für die Gietchen her sind alle ganz sympathisch. Und nett. Ja, wir haben ziemlich viel verloren. Ja. Perfekt, aber etwas hat man auch gewonnen. Ja, habe ich schon. Das war, ja, tolles Erlebnis. Tolles Erlebnis. Und gesehen hat man sogar eine ganze Zeit auf der Altoyerische Faske gekriegt. Ich meine, das ist schon eine tolle Sache, wenn man gegen die Puren gewinnt. Ja, ganz toll. Und was ist deine Prognose für die nächste, für die Rückrunde? Wird es ein paar Spiele gewinnen? Ja, sicherlich. Wir werden gut trainieren, zusammenreisen, konzentriert sein. Ja. Ja, Robert Schifferle, Skischulleiter da von der Skischule Sterzing und Vizepräsident von der neuen Rosskopf AG. Robert, für so einen Tag eigentlich, so ein schöner Tag, wie da Rosskopf hat, für die Mädchen des ZF Südtiro sicherlich ideal. Ja, ganz genau, Peter. Heute haben wir perfekte Bedingungen. Es ist alles offen, die Pisten sind gut getreten, kompakter Schnee. Rodelpuhren geht allem nur gut. Und natürlich bei so einem Traumwetter macht Skifahren Spaß. Ja, Skifahren macht vor allem den Spielerinnen von ZF Südtiro Spaß, die ja eigentlich heute einen total anderen Tag erleben. Normalerweise ist es ja der Sonntag als Fußballtag. Heute ist es ja mal der Skitag. Für Ihnen sicherlich die besten Bedingungen, die Sie finden von Rosskopf frei. Ja, natürlich sind wir als Rosskopf frei, wenn die Spielerinnen da auch kommen. Es tut Ihnen ja auch gut. Sie sind eine Teammannschaft und Sie müssen ein bisschen Teambuilding machen. Und das geht natürlich so bei einem gemeinsamen Tag auf der Piste. Ein bisschen Snowboarden, Skifahren, danach eine Rodelpartie. Ja, gemütlich in die Hütte gehen, das ist für Sie natürlich super. Danke. jetzt. Ja, verm Auch eine scream. I didn't like tears in my eyes Cause boys, don't cry Boys, don't cry I'll break down at your feet and beg for guilt and plead with you But I know that it's too late and now there's nothing I can't do So I try to laugh about it, cover it all up with lies I try to laugh about it, hide in the tears in my eyes Cause boys, don't cry Boys, don't cry I would tell you that I loved you if I thought that you would stay But I know that it's no use and you've already gone away Missed you to leave it Pushed you to fall Took you for granted Thought that you need every more, more, more Now I would do most anything to catch you back by my side But I just keep on laughing, hiding the tears in my eyes Thoughts boys